Ciao a tutti e bentornati all'Ors Training Analysis, la nuova rubrica con me Marco Pagliai e Alberto Alessi. Oggi parliamo, in questo episodio parliamo della desensibilizzazione, un po' detta così tutti dicono che la conosco, la bustina, l'abituo e basta. La desensibilizzazione è la parte cuore di tutto l'addestramento, ha tantissime sfaccettature, varie metodologie, da dove partiamo? Diciamo che per quanto riguarda proprio lo scalino di tutto l'apprendimento, di tutta la scala dell'apprendimento del cavallo, dell'animale è quella più bassa, è quello scalino, il primo scalino. Tutti siamo animali e tutti ci si deve abituare a non dare risposta a caso, a non sprecare energia, a prendere familiarità con stimoli che poi sono innocui per la nostra sopravvivenza. Ecco, per il cavallo, dato che è un animale predato, è appunto la prima cosa che fa sempre in caso di pericolo è la fuga, certe, questo tipo di addestramento è fondamentale. Anziché bisogna addestrarlo a non avere risposte di fuga, non avere risposte che magari in natura li potrebbero salvare la vita, però con l'interazione nella nostra gestione, ecco, bisogna addestrarlo, desensibilizzarlo a tantissimi stimoli che invece magari, ai quali invece darebbe tutt'altro tipo di risposta, come ad esempio proprio semplicemente alla presenza dell'uomo, la presenza dell'uomo vicino a lui, la capezza, poi appunto arrivando alla sella, appunto, qualsiasi cosa che è vista molto semplice nella gestione quotidiana del cavallo, però fatto sta che qualcuno ha dovuto abituare il cavallo a non aver paura, a non aver timore, o meglio, non esternare quei tipi di comportamento che la natura li imporrebbe di avere invece alla presenza di quegli stimoli. Allora la puntata è finita, è facile. Eh, infatti, qui entra proprio in gioco, diciamo, bisogna imparare a guardare questo tipo di approccio in maniera tale che sia un arricchimento per il cavallo. Tutto quello che è desensibilizzazione deve portare il cavallo ad avere più fiducia in se stesso, ad essere molto più sicuro di se stesso nell'approcciarsi a stimoli nuovi, a situazioni nuove. Tutta la desensibilizzazione, tutte quelle tecniche fatte sull'invadenza dello stimolo, fino a quando il cavallo smette di dare risposte di fuga, porta il cavallo a annientare quei tipi di comportamento, ma senza aver capito la natura dello stimolo stesso, senza aver accettato, senza aver compreso, che invece magari semplicemente annusandolo o dandogli attenzione è la soluzione da... Quindi parliamo di inondazione, di fatto. Qui si parla proprio delle varie tecniche appunto chiamate inondazioni. Questo è appunto, facciamo vedere qualche video, ci sono appunto tanti sistemi dove il cavallo viene addirittura legato o viene comunque lasciato libero, come in questo caso, di esternare i suoi comportamenti di difesa, che addirittura arrivano ad essere aggressivi, ad uno stimolo che però non si può togliere da lui, cioè è legato a lui, allora di conseguenza prima o poi s'abitua. È la frase che intanto prima o poi smette. Chi lo decide il prima o poi? Eh, prima o poi infatti qui consiglio alle persone di andare a guardare quello che abbiamo trattato per quanto riguarda proprio la nascita della perseveranza. Magari Alberto se li raccendi un attimo. Sì, c'era proprio nell'altro podcast, ne abbiamo parlato, era appunto l'esperimento quello dei topini, anche nel libro l'abbiamo messo, l'esperimento cruento che è stato fatto sbagliato anni fa da ricercatori, che appunto avevano, volevano vedere quanto degli animali potevano lottare per la loro sopravvivenza. E l'esperimento in sintesi era prendere questi topini, metterli in dei cilindri d'acqua, dove potevano lottare ma non potevano uscire, e prendevano il tempo che ci mettevano prima che affogavano. All'inizio eravano 15 minuti, poi hanno preso altri topini, hanno rifatto lo stesso esperimento, togliendoli verso i 10-12 minuti, togliendo i topini, salvandolo. Salvando i topini. In extremi, se proprio. Sì, nel momento in cui mediamente sarebbero lasciati affogare. Li hanno fatti un po' riprendere qualche secondo, e i stessi topini li hanno rimessi dentro e hanno ricominciato a lottare. Quindi prendendo il tempo si aspettavano che più o meno altri 15 minuti, e invece questi tempi erano diventati estremi, diventati dalle 60 alle 90 ore. Quindi i topini lottavano per la loro sopravvivenza in attesa di un potenziale evento positivo che li salvasse, quindi appunto la nascita della perseveranza. C'era stato, c'era stata quella salvezza improvvisa, appunto, proprio da ultimo, e allora dopo ci provavano fino a... Perché prima, i primi 15 minuti, la morte era avvenuta non per un limite fisico, ma un limite mentale. Provo, 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 non riesco. Non c'è assoluto. Superato quello, facendo capire che, guarda, insisti che c'è un limite, qualcuno potrebbe salvarti, il limite psicologico è sparito, è rimasto quello fisico. Quindi era ben più... E' chiaro che dopo 60 ore il topino fisicamente proprio non è più sostenibile e affogava lo stesso. Ecco. Questo è importante perché questo tipo di fenomeno c'è anche nell'essere umano. Naturalmente c'è anche, appunto, tutta la preparazione dei marines. E' anche positivo, cioè in stessi casi viene usato proprio per innalzare certi livelli di insistenza su cosa, come uscire dalle situazioni. Però... E c'è anche nel cavallo, in tutti gli animali. E così, allora, se magari utilizziamo una tecnica di floating, appunto, di inondazione, con un cavallo che magari per una volta, la volta prima o una volta nella sua vita, ha innalzato questa sua soglia di perseveranza, appunto, vivendo una situazione così tanto stressante, si è liberato... E' riuscito in qualche modo a liberarsi. Si è autosalvato. Lui non ha più quel limite mentale, ma diventerà un limite fisico. rischiamo che il cavallo non si abitui a quello stimolo lì, ma addirittura davvero gli vada a scoppiare il cuore. Ecco, fissiamolo bene questo concetto, perché arriva un cavallo, un addestramento da un trainer che non conosce quello che è successo. Io prendo, leggo una cosa, diventa una roulette russa. Ma poi è ridicolo, cioè è una cosa proprio... Sì, ok. Però siccome se ne vedono tanti, ora ne abbiamo trovati alcuni, però... Perché è facile, no? È meno pericoloso per l'uomo, lo legano, lo mettono lì e quando ti vada riprende... Magari però lo trovi che non è più in vita. E poi, si torna proprio al discorso iniziale, qui lui lo stimolo lo subisce e questo non bisogna permetterlo. Tutto quello che è desensibilizzazione non è un subire lo stimolo, è proprio invece utilizzare quello stimolo per renderlo più sicuro di se stesso, proprio incentivarlo a dire oh guarda, è per quello che molte volte anche stimoli paurosi vengano combinati con rinforzo positivo. Cavolo, perché il rinforzo positivo? Oh, ho paura della bandierina, ma se tocco la bandierina arriva anche il cibo. Inverte totalmente la situazione. Oh, questo magari può essere una strada molto più fruttuosa anche in futuro. Noi, tutto quello che è desensibilizzazione deve portare il cavallo a prendere più sicurezza in se stesso, no a insegnargli a subire, perché questo tipo di, appunto, questo suo subire, questi stimoli esterni, avrà un limite. E allora rischiamo che a un certo punto, magari quando la situazione ambientale cambia, quello stimolo a cui si è apparentemente abituato e desensibilizzato, cambiando la situazione e innalzando leggermente la soglia di stress del cavallo, porta risposte, porti a risposte incredibilmente diverse. Come appunto, ad esempio, in questo video, dove si vede che, appunto, questi sono proprio casi quasi di freezing, dove il cavallo ha imparato a subire, addirittura a congelarsi, a bloccarsi, però dopo, a un certo punto, quel suo, subire, quello stress lì, non è più sostenibile e poi esplode, esplode in una maniera talmente innaturale che, a parte essere pericolosissima per la persona, ma è pericolosa anche per il cavallo stesso. Perché ricordiamo che non è cosciente, è un'esplosione di... Lì proprio, è un'esplosione che il cavallo, proprio per liberarsi da qualsiasi cosa, perché sta vivendo l'inferno e facendo, appunto, utilizzando tecniche come abbiamo visto prima, si può proprio incorrere molto facilmente in questi fenomeni qua. Quindi se non è questo il condizionamento magari ha la paura o potrebbe essere, a predisporlo, essere più aggressivo quando capita qualche stimolo. infatti anche, rifacciamo vedere questo video, anche qua si vede che il cavallo montato non può avere la libertà di fuggire, non può avere la libertà di far niente e attacca la plastica, attacca la bandierina. Ma perché? Perché non ha la possibilità di fuggire, non ha la possibilità di allontanarsi. Allora è chiaro che io se non ho quello ricorro anche all'aggressione. Il cavallo diventa aggressivo nel momento che... L'ultima chance, chiaro. ...può diventare aggressivo. Ma perché ce l'abbiamo portato noi poi a quel tipo di comportamento? E la stessa cosa invece, in modo inverso, è il discorso che dicevi prima di riuscire a metterlo in condizione di aumentare l'autostima, quindi risolvere una cosa, quindi proprio sviluppare una capacità di provare il solving. C'è un problema, posso superarlo, ne affronto uno, due, tre, mille, comincio ad andare più tranquillo nel mondo. Ma infatti, ma è come bambini. Appunto, dicevo che... E poi è come le persone, come noi. Più... Esperienze positive, esco in autonomia dalle esperienze positive. Bravo. Non le subisco, se no poi non ne voglio più sapere, se no poi mi creo la mia comfort zone piccolina e poi dopo non esco assolutamente al di fuori di quella. E invece non bisogna assolutamente far quello. Per quello che tutti gli stimoli a cui lo dobbiamo abituare è bene che si propongano, anzi, più cose appunto li si presentano è meglio. È proprio una fase di crescita importante per il puledro, per il cavallo anche in generale. Invece, molte volte addirittura si va a lavorare sull'imprinting training, cioè addirittura che sono manipolazioni che subito il giorno dopo dalla nascita del cavallo vengano fatte quando il puledro non può muoversi un po' però è che consiste di fatto. Infatti proprio praticamente è quello lì un floating fatto da piccolino però è un camionente. Anzi, vai a lavorare su un fisico naturalmente molto più gestibile perché è molto piccolino è molto più facile tenerlo fermo ma a livello mentale il cavallo è pronto è sveglio apprende tutto e capisce allora vai già a quell'età lì già in quei giorni lì vai già a capire che certe cose le deve subire non le sta imparando non le sta accettando le deve subire Quindi metti la base della sua vita totalmente sbagliata No, secondo me è qualcosa di tremendo di tremendo sì che non no cerchiamo proprio di valutare le cose per quello che sono e cerchiamo proprio di far sì che ogni esperienza che facciamo fare a cavallo sia un arricchimento e non un togliere No, no, è chiaro non deve essere un togliere quindi il fatto che io prendo una bandierina una frusta o quello che sia e la muovo vicino a cavallo che rimane immobile di fatto non ti dice niente No, non dice niente assolutamente anzi molte volte anche quello è interessante vedere come alcuni cavalli imparano proprio perché anche qui è interessante vedere come viene insegnata come si insegna la desensibilizzazione applico lo stimolo e lo tolgo quando il cavallo si ferma forte allora tutti appunto la bandierina quando si ferma tolgo ma anche qui si torna a puntare il dito sull'importanza dello stato d'animo io tolgo nel momento in cui il cavallo è sereno si rilassa un attimo che non è detto che si fermi anzi può darsi che il suo fermare porti proprio il cavallo a fermarsi congelandosi cioè trattenendo il movimento ma implodendo in se stesso e quello gli porta proprio anche il beneficio del togliere dello stimolo così insegniamo al cavallo a subire a in qualche modo appunto a bloccarsi se hai tanta paura fermati no è proprio totalmente sbagliato quello anche da sella dopo gli rimane come concetto uguale è pericolosissimo da sella diventa anche pericoloso infatti i cavalli più pericolosi sono quelli che non riesce a mandare avanti in situazioni di pericolo che non riesce a muovere perché si bloccano e lo senti che implodano dentro di sé poverini è per quello che bisogna sempre cercare di valutare lo stato d'animo del cavallo e allora è quello che mi farà magari togliere lo stimolo nel momento giusto tanti cavalli nel momento in cui muovi la bandierina appunto la bandiera la plastica e stanno fermi se continui il tipo di stimolo creando movimento il cavallo salta per aria e allora dici cavolo allora non l'avevo abituato allo stimolo l'avevo insegnato che se stai fermo lo stimolo è innovo e va via se però ti muovi è tutta un'altra cosa e io invece per quello che noi la desensibilizzazione è fondamentale farla anche in movimento perché poi non è che lo capisce mi fermo faccio questo meccanismo di compressione in qualche modo e andrà via però poi faccio un passo e in qualche modo non riesco a gestire il movimento infatti anche per le situazioni di freezing di appunto di blocco proprio del cavallo il movimento è quello che risolve o fa esplodere o in qualche modo risolve è importante insegnargli sempre a muoversi anzi forse fra i due è meglio il movimento e il discorso della sella è uguale metto una sella al cavallo l'impongo stare fermo se ti vuoi muovere muoviti magari appunto fai la tua sgruppatina fai tutte le cose fai le tue prove d'errori perché tanto anche lì si va puoi benissimo abituare il cavallo alla stretta del sottopancio alla presenza della sella prima del fascione del sottosella via dicendo poi ci sarà un momento dove la stretta sarà un pochino maggiore e probabilmente è anche giusto che il cavallo faccia i suoi tentativi magari di sgroppato di chissà cosa insomma di fastidio perché in effetti è fastidiosa ha anche ragione però se hai fatto tutto il processo fatto bene ok dopo quella sgroppatina quella cosa il cavallo si mette in pace perché tanto ha visto che non è cambiato nulla e non è successo è sempre soggettivo perché magari i cavalli lo fanno subito altri non lo faranno mai quindi non va né attivato se lo fa è una cosa che devi sempre valutare da cavallo a cavallo quello sì perché anche quello insomma fa parte della disensibilizzazione e come la presenza della sella la presenza della persona la presenza di qualsiasi tipo di di bardatura che mettiamo a cavallo anche alla coperta invernale sì perché spesso si va là mettile nessuno magari l'ha mai provata scopri abituazione appunto ai parastinchi come qui nel video si fa vedere bene appunto la prima volta di questo poledro che si mette i parastinchi e lui all'inizio fa le sue prove d'errori che fa questi gesti esagerati con le gambe dopo però 4-5 passi naturalmente quel tipo di risposta va a scomparire perché è inutile è semplicemente uno spreco di energia e il cavallo sappiamo bene che già per sua natura è un animale che tende a risparmiare tanta energia perché per vivere lui per sopravvivere in natura pascola 16-18 ore ogni giorno allora non è un animale che ha così tanta voglia di buttare energia così via a caso e allora proprio questo suo sistema di risparmio energetico fa sì che il cavallo sia un animale che si abitua molto velocemente agli stimoli noi allora bisogna cercare di intraprendere quel tipo di strada in maniera tale che però porti un beneficio nel cavallo facendogli vedere le cose nuove le esperienze nuove in maniera più che positiva quindi abbiamo visto che ci sono tante tante metodologie tanti rischi nel fare questa cosa quindi di nuovo anche qui bisogna stare attenti a non improvvisare perché una cosa che per noi ah vabbè che ci vuole vi faccio vedere la dosatrice e magari per quel cavallo succede il casino manifesta in modo esagerato non riusciamo a gestire la situazione perché magari non eravamo anche attrezzati non eravamo nel posto giusto non avevamo le competenze e abbiamo creato un problema però si sono cose un po' troppo a volte banalizzate e da un errore apparentemente banale puoi creare davvero il famoso condizionamento alla paura appunto noi anche ora abbiamo in lavoro un cavallo che probabilmente la prima sella l'è stata messa in modo sbagliato in maniera tale che nel momento in cui il cavallo è partito a sgruppare la sella si è girata fino a andargli sulla grassella e poi comunque vada a liberarsene ecco quel singolo evento che è anche abbastanza comune perché molte volte il cavallo magari nel momento della stretta del sottopancia non ti dà il tempo di stringerlo bene e parte subito magari a fare i suoi comportamenti e però dopo è rischioso perché se la sella gira e se la sella in qualche modo porta un danno grosso quel tipo di esperienza avrà conseguenze per tutto il rischio della vita come appunto il condizionamento alla paura ha studiato la ricerca appunto del piccolo Albert di questo bambino al quale era semplicemente stato sottoposto questi due piatti rumorosi alle spalle grande rumore mentre si avvicinava a un peluche a un coniglietto e lui questo povero bambino tutte le volte che poi rivedeva un coniglietto aveva questa sorta di attacchi di panico ma non solo al coniglietto ma anche quando vedeva il peluche quando vedeva qualsiasi cosa che aveva il pelo e allora questo porta delle conseguenze che per tutta la vita quel soggetto avrà difficoltà avrà attacchi di paura nel momento in cui si presenterà infatti la cosa ancora più complicata è che lo stimolo con cui lui ha associato la paura l'ha scelto lui di quella situazione magari per te dice la sella infatti punto con questo cavallo dicevi il primo periodo è stato davvero difficile perché innanzitutto ogni volta succede cose importanti quindi devi riuscire a valutare velocemente cosa le ha attivate perché l'insieme nella situazione c'è tanta roba la persona vicina l'atteggiamento il movimento cosa c'è tantamente tante variabili e si poteva evitare abbastanza facilmente è difficile risolvere attacchi di panico nelle persone immaginiamoci nei cavalli le persone che vogliono risolverle che hanno la volontà di risolverle perché ci stanno male il cavallo che tiene frega anzi vorrebbe semplicemente evitare però ecco la cosa importante è proprio cercare di non fare questi errori qui di non banalizzare queste procedure perché anzi possono lasciare un segno indelebile in tutta la vita del cavallo infatti questa puntata la vogliamo chiamare il lato oscuro della desensibilizzazione perché sembra sempre una cosa positiva e basta però è appunto il meccanismo apprendimento più semplice ma anche quello più quello più usato e molte volte è anche meno conosciuto perché l'altro aspetto sfavorevole per il cavallo perché abbiamo detto che il cavallo è un animale che si abitua molto facilmente però il problema è che si abitua anche molto facilmente alle richieste che facciamo verso di lui così è per quello che molti cavalli diventano duri di bocca o sordi di gamba o ingestibili da terra tutto questo è fatto è successo perché il processo di addestramento di gestione del cavallo ha portato ad abituarli a quelle pressioni che per noi invece sono indispensabili per la sua gestione in sicurezza che bisogna anche per quello è importante capire il senso la logica di tutti questi processi di addestramento perché hanno sempre un lato positivo ma hanno sempre anche un lato negativo conoscerli fa sì che la nostra comunicazione rimanga sempre leggera ma al solito tempo magari si abitua a stimoli che magari li portano e poi come tutte le cose quando uno appunto le conosce sa anche quando sta andando in una direzione sbagliata perché se te ne accorgi sicuramente c'è un momento dove uno ti rendi conto che se insisto così sta diventando sordo alla gamba sta diventando già fa in tempo un pochettino anche se è sbagliato però appunto ci siamo resi conto che la desensibilitazione non è più prendo un qualcosa lo faccio vedere e basta ma impatta su tutto che poi va mantenuta anche nella vita si va mantenuta come tutte le cose ogni giorno ogni momento va vissuto per quello che è e cercando proprio di capire quello che ci sta dicendo il cavallo in quel momento lì non è un robot magari se lo fosse allora sarebbe si sarebbe tutti fenomeni no ma c'è si chiamano motociclette l'hanno fatta i tasti sempre lì sempre uguali ma velocità sempre uguale infatti proprio proprio quello è importante cercare di far capire a tutti capire tutti noi che tutta la comunicazione che abbiamo con il cavallo va mantenuta va creata bisogna dargli un senso una logica comprendere come crearla e comprendere come mantenerla e quello lo devono fare tutti il cavaliere neofita l'addestratore l'istruttore il campione chiunque deve sapere queste regole qua perché perché è un animale un animale pensante molto intelligente molto sensibile che però ha bisogno di chiarezza e se noi non abbiamo chiaro già noi nella nostra testa questi processi qua è chiaro che per il cavallo diventa solo una lotta allora imboccature da draghi speroni te lo stavo per chiedere secondo te se uno capisce bene questo concetto che percentuale rimane di finimenti in commercio no ma infatti alla fine è banale è ridicolo ad oggi vedere quanto si vada a studiare queste bardature questi strumenti che applicano pressione in maniera esagerata sempre quello che però preme sulla barra non sulla lingua quello sul palato quello sul naso quello dietro l'orecchio che dici cavolo se mi manca la logica di quello che sto facendo non è lo strumento che mi sopperisce a queste lacune qua però sembra proprio che non ci sia neanche la volontà di scoprire queste cose qua perché tanto basta un'imboccatura più forte il cavallo fermo ci sono sempre menti menti geniali che sono impiegate per costruire cose per rendere gli incompetenti cioè per rendere la vita incompetente sempre più facile di piuttosto che concentrarsi a capire come funziona e risolverlo piuttosto ti creano delle cose sempre più facili di usare per te dei contenimenti per ovviare alla propria incapacità i propri errori che hai fatto anche nel tempo che portano delle conseguenze che poi alcuni li potresti anche risolvere ma se invece continui in quella strada lì più che altro se tanto ti manca il senso delle cose se non c'hai in testa chiaro come si addestra e come impara un cavallo si va proprio lontano trovi sempre un limite e allora ricorri sempre allo strumento per quello che diciamo sempre lo strumento viene sempre dopo non siamo contro allo strumento non dobbiamo essere contro allo sperone alla frusta o a chissà cosa è che però bisogna dargli un senso bisogna sempre che siano aiuti e non stimoli primari che non siano la prima richiesta che lo sperone deve arrivare una volta ogni tanto proprio quando è necessario ma se ho lavorato bene vuol dire che poi dopo posso toglierlo e questo è importante però me lo ripeti questo perché questo andrebbe detto più e più volte come tutti gli strumenti nel momento in cui strumenti che sono in grado di fare grandi cose è quello abbiamo a volte possiamo aver bisogno di avere appunto possiamo aver bisogno di avere uno strumento che applica tanta pressione che arrivi anche a intensità molto forti come davvero uno sperone come una frusta però è importante che se io lavoro bene l'utilizzo di quello strumento sarà raro sarà pochissimo dovrà intervenire pochissime volte se lavoro bene se invece lavoro male vorrà dire che tutte le volte dovrà comparire ma quello porterà il cavallo addirittura abituarsi anche a quello stimolo forte infatti per quello tanti cavalli arrivano ad avere il callo dello sperone o appunto la bocca tritata poverini perché? perché non è chiaro il senso io posso non dobbiamo essere contro agli strumenti che applicano tanta pressione ma dobbiamo capire il senso io lo posso utilizzare ma se lo utilizzo vuol dire non lo utilizzo più lo posso utilizzare una volta posso utilizzarlo ogni tanto ma non deve entrare nella routine di gestione se no sto sbagliando un cavallo che non è stato mai abituato a questo probabilmente non ti porterà mai a avere necessità di questi strumenti infatti non ha senso tu parli già di una sezione di recupero già di cavalli già abituati a pressioni abbastanza alte ma sempre si torna lì è sempre un errore nostro è per quello che puntiamo tanto sul far capire certi concetti alle persone assolutamente perché poi dopo non è lo strumento che risolve anzi lo strumento forte se usato senza consapevolezza probabilmente va ad aggravare la problematica perché bisogna stare attenti certo creano anche di nuove perché poi diventano dei rifiuti è chiaro che quel tipo di situazione verrà vissuta ancora peggio dal cavallo e piano piano le conseguenze si pagano ne parlavamo qualche puntata fa al discorso di applicare lo stesso metodo qui è uguale perché se io decido con tutti i cavalli uso lo sperone potrei arrivare a un punto dove con uno davvero faccio casino perché è troppo per lui è davvero troppo però si è inventato la fascia la fascia del rispetto allora apposto e che cavolo vabbè quindi il concetto di sensibilizzazione avete capito che è fondamentale da studiare in tutti i versi ci sono tanti meccanismi appunto il discorso progressivo che lo dicevi di farlo un po' alla volta di dividere tutto in piccoli stimoli e niente è complicato però va studiato appunto come tutto il resto è quello più semplice quindi se noi saltiamo questo e vogliamo andare a fare cose esagerate andiamo a costruire su delle basi che sono già traballanti abbiamo detto insieme questo bene allora chiuchiamo qua questa puntata e grazie di averci ascoltato ho visto e alla prossima alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.